Ci sono cose che durano per 365 giorni all'anno, senza fermarsi praticamente mai. Due di queste sono il calciomercato, che anche quando le sessioni di trasferimenti non sono ufficialmente aperte tiene sempre banco, e il derby tra Inter e Milan, un confronto a distanza sempre molto sentito dai tifosi ma anche dalle dirigenze. I motivi di attrito e di battibecco tra le due opposte fazioni di certo non mancano mai. Se poi il duello tra le due compagini milanesi si sposta sul mercato, si infiamma ancora di più. Ed è quello che potrebbe accadere prossimamente, almeno a giudicare dai rumors in circolazione, con tanti giocatori che possono essere appetibili sia per i campioni d'Italia che per i cugini del diavolo. Se da un lato le squadre di Simone Inzaghi e di Paolo Fonseca sono impegnate a cercare di massimizzare le loro prestazioni in campo per puntare a grandi traguardi, dall'altro guardano certamente al futuro e ai prossimi rinforzi. La prossima sfida, che potrebbe coinvolgere entrambe, appare davvero intrigante e riguarda uno dei principali talenti del calcio italiano. Stiamo parlando del talento dell'Empoli, Jacopo Fazzini. Lo scorso anno, ha fatto vedere di cosa è capace e di poter stare tranquillamente in serie A ad alto livello. Quest'anno, Jacopo Fazzini si sta confermando senza dubbio ed è uno dei migliori calciatori che l'Empoli può mettere in mostra. Il classe 2003 è un trequartista dalle doti palla al piede non comuni. Capace di saltare l'uomo con grande facilità e di inventare passaggi che mettono i compagni nelle migliori condizioni per segnare. Non è un caso che abbia solleticato già a più riprese l'interesse di tanti club importanti. Il Milan vuole sfruttare i buoni rapporti con l'Empoli, ma attenzione, come detto, all'irruzione dell'Inter, che potrebbe portarlo via. Per i Nerazzurri ci sarebbe in mente una offerta da 12 milioni da presentare ai Toscani, per cercare di blindare il prima possibile uno dei colpi più futuribili. Il tutto risponde alla nuova linea che l'Inter vuole darsi, sulla spinta di Oktri, cercando giocatori giovani e di prospettiva e dal profilo economicamente sostenibile. L'idea è quella di costruire una rosa che sia in grado di competere ad alto livello non solo nel presente, ma anche nel futuro, investendo su giovani che possano affermarsi nei prossimi anni come i leader di domani. Marotta e Ausilio monitorano già una lunga lista di nomi, specialmente tra i giovani calciatori italiani. Bertola, Daniel Maldini, Ricci, sono solo alcuni dei giocatori sotto osservazione, ma non è da escludere che possano essere fatti altri nomi nel corso della stagione. La sfida tra Inter e Milan si preannuncia sempre più accesa, e nelle prossime finestre di mercato potremmo davvero vederne delle belle. Entrambe le società sono pronte a dar battaglia sul mercato, con l'obiettivo di assicurarsi i talenti del futuro e a crescere il proprio valore in vista di nuove competizioni. La sessione di mercato di gennaio, tra l'altro, si avvicina, e non è detto che, nel frattempo, i destini di alcuni giovani talenti non si intreccino in modi inaspettati.